Nova Monta è un'azienda italiana attiva nella produzione e nella commercializzazione di materie plastiche più degradabili e compostabili, provenienti da materie prime rinnovabili, quali gli amidi e gli oli vegetali. Mater B, il nome commerciale di questa famiglia di materie plastiche, può essere utilizzato per produrre shoppers, per la spesa, sacchetti per la raccolta differenziata della frazione organica, stoviglie monouso per la ristorazione collettiva, ma anche applicazioni quali la pacciamatura nei settori agricoli. La tecnologia di Nova Monta è una tecnologia coperta da una serie molto ampia di brevetti e che permette attraverso una tecnologia e un processo produttivo a ridotto impatto ambientale di fornire delle soluzioni alternative al normale utilizzo delle materie plastiche, ma soprattutto di sfruttare le caratteristiche di biodegradabilità e di compostabilità per proporre delle soluzioni alternative allo smaltimento del prodotto alla fine della vita, riducendo quindi l'impatto ambientale legato alla gestione del rifiuto.